musica 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 si parte 30 siamo in 30 ah la macchina è quella di prima no ah non abbiamo il bmw sicuramente è meglio di quell'altra ma proprio tantissimo ecco questo l'ho fatto sbanda va bene così si però guarda che strada c'ho il sole in faccia che palle eh ho capito non ci vedo sto cominciando un po' a capire come va sta macchina guardalo 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 non mi vuole far passare guarda che pezzo di merda è venuto addosso che pezzo di merda guardalo eh ciao ci siamo visti fa molto meglio adesso sta macchina sembra la stessa scena di 7m15 che questa è brutta mi è ripassato avanti io però stavolta ho fatto la prima curva fatta più o meno bene è quando non mi entra la marcia però che palle ok a questo qua rosso non lo posso far sta avanti per principio dovrò arrivare prima di lui mamma mia come lo supera levatevi proprio male 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 ok no l'importante è che non faccio passare quello rosso questo qua dietro ok e dai è così oh buonasera midrox come va dai e sfondali oh sta andando meglio sto giro comunque un giretto e mezzo che sto perlomeno non sto andando fuori strada e questo è già è già un progresso incredibile e no non mi è entrata la marcia però no no te non devi passare chiudo la strada che pezzo di merda mi ha passato avanti sto a finire a benzina basta per me è finita per me è finita per me è finita qua ve lascio passare mi accosto tanto queste erano le prove libere no ok ora ci andiamo a fare le qualifiche ho preso più o meno confidenza con la macchina non è non è una brutta macchina anzi oh e quello c'ha il bmv ma scusa ma perché gli altri ci possono avere il bmv o no? che che è sta cosa? vai vai voglio qualifica bene eh ci abbiamo dieci minuti per fare il miglior giro della pista certo il bmv sarebbe stato molto più easy eh ecco perché prima quello con la macchina rossa spegneva così tanto perché quello c'era il bmv mo ci sto ripensando io c'è un principio di crampo al polpaccio ok male male vabbè tanto il giro è iniziato adesso adesso dobbiamo andare puliti precisi e aggressivi brutta curva questa ho quanta è lunga sta curva mamma mia che fastidio non finisce più vediamo dopo questo giro quanto siamo qualificati quinti? aia il polpaccio ma questa è quella lunghissima di curva siamo ottavi dai per adesso partiamo ottavi la gara non è male considerando che siamo 30 non mi ha andato fuori strada eh giocate sporco voi e gioco sporco pure io ehm beh e andiamo così 8 su 30 è buonissimo si infatti poi partiamo da ottavi poi magari riusciamo anche a piazzarci meglio come prima siamo partiti decimi siamo arrivati terzi no no troppo lunga troppo lunga l'ho fatta merda merda mi ha rovinato il giro sta cosa all'ultima curva quello già se n'è nato i box pure quello mi sarà finita la benzina ci dovrei andare pure io in realtà i box vedo se riesco a fare un altro giro forse no c'ho mezzo litro c'è la faccia a fare tutto tutto un altro giro con mezzo litro? no non credo mai non sento più il motore della macchina ah perchè non c'è più il motore della macchina è finita la benzina abbiamo finito eh l'avevo detto avrei fatto tipo metà percorso mi è partita male la marcia però la partenza niente male in realtà se mi venite addosso però maledetti guarda ancora eccolo quello con la macchina rossa ce l'ho davanti è finita la gara io non ho capito le posizioni qua ma in teoria non dovrei essere arrivato meglio del tredicesimo posto cioè non dovrei aver fatto peggio della partenza sono arrivato settimo va bene ci sta dai primo con 25 punti boh podio primo sono arrivato primo ragazzi così a caso 7 su 3 infatti non ho capito ora sono arrivato primo che Grazie a tutti